Salve a tutti ragazzi, sono Luigi di Non Solo Trash, in diritta da Casa Mia. Bene ragazzi, oggi sono qui per recensirvi questo magnifico film che è Kingsman Il Cerchio d'Oro, o come piace chiamarlo a me, Kingsman The Golden Circle, perché veramente sembra il circolo dell'oro. Vabbè, comunque sia, lasciando queste mie piccole paranoie sui titoli, parlerò di questo seguito. Allora, vi parlo un po' del primo film, perché mi sembra più che dovuto, perché il primo film sembra diretto dallo stesso regista, tra l'altro, Matthew Wogan. Quindi parlo di questo film. Prima un po' del primo, poi parlo effettivamente del secondo. Faccio una piccola analisi del primo, ma proprio piccolissima. Allora, il primo è uscito nel 2014, quindi due anni fa, praticamente. Io non lo vedi al cinema subito, perché purtroppo non sapevo di che cosa parlasse. Credevo fosse la classica parodia di James Bond, sapete, no? Effettivamente era quello che, appunto, pensavo. Però non sapevo fino a questo punto, perché io conoscevo già un regista chiamato Guy Ritchie, che aveva diretto nel 2000 un film chiamato The Snatch, lo strappo, c'è Brad Pitt e qualche altro attore che adesso non mi viene in mente. Però vi posso dire che tramite questo, ho notato parecchie analogie tra questi due registi, tra Guy Ritchie e Matthew Wogan. Hanno più o meno lo stesso stile registico. Film adrenalinici, pieni di tensione, molto veloci, insomma. Praticamente film abbastanza rapidi, veloci, senza eccedere in scene lente. Effettivamente questo Kingsman è veramente spettacolare. Io veramente l'ho adorato alla foglia, il primo, perché l'ho recuperato con un anno in ritardo nel 2016, se non sbaglio. Sì, mi sa l'anno scorso, non ricordo che ne è stato atteso. Pure lo stesso anno in cui era uscito, adesso non ricordo che ne è stato atteso. Però comunque l'ho recuperato, in ogni caso, e mi è piaciuto tantissimo. Tant'è che ogni tanto me lo riguardo quando mi è possibile, tipo in tv oppure addirittura in streaming, perché veramente io lo adoro tantissimo, questo primo Kingsman. Perché veramente ha quella propria, è una parodia proprio classica dei film di James Bond, del periodo in cui c'era Sean Connery, in cui c'era Roger Moore, in cui c'era George Lesenby. Quindi diciamo, è una parodia molto cara, cioè che non parodizza diciamo in modo grossolano. Però effettivamente Matthew Vaughn ha deciso di proprio esagerare tutti gli stereotipi dei film di James Bond e fare questo Kingsman. Però infatti ci sono un sacco di analogie tra i film di James Bond e questo Kingsman primo. Quindi io il primo lo adoro alla follia, quindi mi sembrava anche il caso di vedere questo seguito, perché il seguito è uscito con due anni dopo, un anno di ritardo diciamo. Vabbè, ovviamente dovevano avere il concept dell'idea di com'è realizzare questo secondo capitolo. E devo dire la verità, il primo come ho detto, mi sono dimenticato di dirlo, il voto è un 9, quindi il primo è veramente un film che a me è piaciuto veramente tanto. Molto leggero, molto genuino, nonostante durasse sulle due ore abbastanza. Adesso non ricordo con esattezza la durata. Però devo dire che questo secondo film è stato forse anche meglio del primo, sotto certi punti di vista. Ma non dico che sia proprio meglio, ma proprio di tanto. Cioè è un seguito, sì, però non è uno di quei seguiti che sono abbastanza belli da dire, no, è il meglio del primo. Effettivamente sotto certi aspetti è anche meglio del primo, perché come ho già detto, stavolta ci spostiamo negli States, cioè negli Stati Uniti d'America, dove c'è la controparte dei Kingsman in America, cioè gli Statesman, che è praticamente la stessa cosa. Questa... un po' come, diciamo, M, diciamo, no? Sapete, no? Il palazzo dove c'era M in Bond, e poi c'era, diciamo, che gli dava degli incarichi, dovevano sconfiggere il classico cattivo, e bla 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 bla. Insomma, è questa la storia di questo Kingsman 2, alla fine. Che cosa posso dire di questo secondo capitolo? Perché veramente è un film che dice tutto, ma allo stesso tempo non dice neanche così tanto, perché alla fine si apre questa specie di varco che tu dici, è probabile che vedremo molte cose più approfondite magari in un prossimo terzo capitolo, che tra l'altro Vaughn ha confermato che sta facendo, che sta scrivendo, anche perché lui stesso ha scritto il primo Kingsman, e anche questo seguito. Che si può dire su questo secondo capitolo di Kingsman, cioè Kingsman il cerchio d'oro? Perché effettivamente, devo dire la verità, come sottotitolo ci sta, perché alla fine il primo era Secret Service, cioè Servizi Segreti. In questo caso il cerchio d'oro, ecco, si va a capire che è un po', non voglio stare a spoilerare perché spoiler non ne farò, perché il film è uscito praticamente oggi, non posso spoilerare nulla a riguardo. Inizialmente, appena ho saputo che doveva uscire questo secondo capitolo, è un sequel necessario? Perché effettivamente, ci siamo tutti posti questa domanda, i sequel sono necessari? In questo caso, direi la verità, sì. In questo caso, sì. Poiché, come sappiamo, in teoria, tutti i seguiti non vengono proprio bene, cioè non tutte le ciambelle vengono col buco. Quindi, in conseguenza, posso dire soltanto che nelle varie saghe cinematografiche, qualsiasi, qualsiasi seguito è diventato orribile, cioè anche il secondo, il terzo, ma ci sono molte eccezioni, che poi, vabbè, si sa, sono anche addirittura meglio del primo. Infatti, basta vedere Apes Revolution, che comunque adesso è stato superato da questo terzo capitolo, cioè The War, il pianeta delle scigne, cioè War for the Planet of the Apes. Però, questo sequel, sì, era necessario, perché effettivamente volevo vedere di più, poiché, più o meno, sì, Kingsman primo, più che altro, sì, si soffermava, però non c'era molto, cioè, c'era tanto da vedere, però, alla fine, io volevo vederne ancora di più di quello che ho visto. Quindi, questo seguito, è necessario, perché, vogliamo vedere, anche se in maniera globale, il film si estendeva, cioè, questa volta ci siamo spostati in America, dove c'erano gli Statesman, in caso dei Kingsman, in Inghilterra. Ecco perché, secondo me, è perfetto come sequel. È un po' come Guardiani della Galassia 2, effettivamente, se vogliamo, questo seguito, perché, effettivamente, ecco, come ho già detto, Guardiani della Galassia 2, per esempio, mi è piaciuto tantissimo, ed è addirittura, come ho già detto, un pelino più, più in alto del primo capitolo. Stessa cosa qua, per questo sequel, devo ammettere che, l'ho adorato, ho adorato questo sequel, perché è un sequel fatto bene, cioè, non è la classica rimasticatura del primo capitolo, e poi, comunque, perché alla fine, questo cerchio d'oro un po' ricordava Goldfinger, no, eh? Forse sono io, che sono un po' troppo paranoico, no? Perché io adoro Goldfinger, come ogni appassionato di James Bond, con Sean Connery, quindi, cerchio d'oro, io ho pensato subito, ah, Golden Circle, probabilmente ci sarà qualche citazione a Goldfinger, e infatti, effettivamente, qualche piccolissima citazione involontaria c'è, effettivamente, anche il modo in cui sono vestiti, cioè, anche gli stessi costumi, certe volte, vanno un po' a ricordare, magari, qualche film vecchio, di Bond. Voglio dirvi tanto, perché alla fine, come ho già detto, la regia è molto, molto curata, Matthew Vaughn è veramente un pioniere, nell'ambito registrico, poiché, trova sempre l'inquadratura giusta, e ha questi movimenti di macchina molto elaborati, questi movimenti di macchina un po' troppo elaborati, con slow motion, spesso volentieri, e quindi, diciamo, lo stile registrico è abbastanza individuabile, in questo Matthew Vaughn, poiché, diciamo, lo usa spesso in tutti i suoi film, i rallenti, le scene di azione un po', si vede con, dei frame molto, molto di più, quindi si vede che va molto più veloce del normale, quindi, diciamo, ecco, ci sono i fast e i slow motion, quindi, diciamo, sono comunque dei segni, dei marcatori che dicono, questo film l'ha diretto Matthew Vaughn, perché effettivamente sono cose che, solo Matthew Vaughn, riesce a fare, quindi, poi, tra l'altro, sono venuto a sapere, addirittura, che tutte le scene di azione, tutte, proprio tutte, la maggior parte le hanno girate, veramente, cioè, non hanno usato grossi effetti speciali, in computer grafica, hanno usato effetti speciali, artigianali, questo mi fa grande, mi fa veramente, venire un tuffo a cuore, perché, dico, ma come, ormai adesso, anche lo stesso Spectre, con Daniel Craig, cioè l'ultimo capitolo della saga di Bond, era infarcito di computer grafica, in questo caso, sì, c'è la computer grafica, ma non risulta così tanto, invasiva, nella pellicola, poiché, è una computer grafica, che comunque, sì, è leggerissima, però, alla fine, non ti dà proprio fastidio, infatti, comunque, diciamo, un po', ecco, sì, un po' si capisce che computer grafica, beh beh, ma si sa già, comunque, noi dobbiamo tenere sempre testa al film, perché dobbiamo dire, sì, sappiamo che è finzione, ma, comunque, ecco, è il film, questo, cioè, non dobbiamo dimenticarci che comunque il film è sempre un film, non è in realtà, quindi, ecco, è questo che volevo dire, quindi la regia di Vaughn è piuttosto, bella, abbastanza bella, perché, cioè, come ho già detto, questi inquadratori ricercati, questi movimenti di macchine, questi slow motion, che, appunto, sono il suo marchio di fabbrica, non vuoi dire, guardate, questo, questo è il meglio che so fare di me, veramente, perché non ci sono inquadrature piuttosto ordinarie, ci sono comunque inquadrature ben studiate, sempre ben studiate, ma che non eccedono mai in noiosissimi primi piani, insomma, si riesce comunque a rinnovare la regia, come ho già detto, con questi movimenti di macchine molto elaborati, con questi slow motion, fast motion, ecco, di conseguenza anche la sceneggiatura, la sceneggiatura, devo dire che, è scritta abbastanza bene, anche perché l'ha scritto lo stesso, lo stesso Vaughn, è un altro che adesso non ricordo il nome, quindi di conseguenza, lui sapeva già benissimo come continuare la storia su carta, e ovviamente, immaginare come sarebbe dovuta essere, questa storia su carta, se poteva funzionare su film, su video, appunto, e secondo me funziona, funziona parecchio, perché alla fine, sì, ecco, si perde un pochino, il film, però allo stesso tempo, ammetto che, ci sono dei lampi di genio, ovviamente, di Vaughn, che sono veramente, bellissimi, cioè, è un film fuori dagli schemi, perché, alla fine, come ho già detto, è un film adrenalinico, adrenalinico davvero, perché, ecco, non lo so, c'è questa suspense, questa tensione, che comunque, ogni film di Vaughn, comunque, possiede, basta vedere comunque, i kick ass, che comunque, adesso non ricordo che ne è statezza, questi film, però, anche nello stesso Kingsman, primo, la suspense comunque, era palpabile, perché alla fine, ogni scena era d'azione, non c'erano scene, noiose, effettivamente qua, c'è molta azione, molta più azione, di quanto ce ne fosse, nel primo, perché il primo, proprio era stra pieno, stracolmo di azione, però, questo lo è ancora di più, quindi, è ancora più esagerato, ancora più fuori dagli schemi, come dicevo, è molto esagerato, molto, molto esagerato, ammetto, che la fotografia di questo film, l'ho adorata, perché effettivamente, come il Kingsman precedente, cioè il primo, aveva questa fotografia, molto patinata, un po' patinata il primo, lo ammetto, sì, un po' patinato, lo ammetto, con ogni tanto, qualche controluce, qualche, questa fotografia un po' spenta, sì, ecco, sì, ce l'aveva, per ricordare anche un po', perché appunto, ecco, anche Spectre, per esempio, Spectre, è diventato molto, molto cupo, molto, come dire, molto angoscioso, nonostante comunque sia un film d'azione, quello di Bond, più che altro, quindi, anche per lo stesso Kingsman, era un po' ombroso, ecco, era un po' troppo scuro, l'ho ammetto, era un po' troppo desaturato, quasi, stessa cosa qui, poiché, noto, ho notato, che questa fotografia è molto più, accesa, molto più limpida, molto più, un po' più fluorescente del solito, ma che comunque mantiene la stessa cupezza del primo, cioè, proprio del primo film, quindi, riesce comunque ad avere, ad essere comunque coerente con la fotografia del primo film, quindi è un po' per ricollegarsi, senza che, appunto, come sapete, da un seguito all'altro, comunque la fotografia cambia, dipende anche dal direttore della fotografia che se ne occupa del film, quindi, anche questo è un dato di cui tenere conto. passiamo al reparto del montaggio, poiché il montaggio, in questo caso, come appunto in ogni film di Vaughn, il montaggio è abbastanza rapido, molto veloce, molto serrato, è veramente ci sono, è un film molto frenetico, lo ammetto, sì, è molto frenetico, ha questo ritmo molto frenetico, molto veloce, molto rapido, veramente, veramente, veramente la suspense, la tensione è palpabile, anche qua, in questo film, veramente degna di nota, questa suspense, questa tensione che comunque emette il film, anche se, diciamo, i personaggi li conosciamo, anche se, come ho già detto, ci sono gli statesman, e quindi, diciamo, ci sono dei personaggi nuovi, poi parliamo dei personaggi, ma andiamo con calma. Per quanto riguarda, come ho già detto, il riporto del montaggio, del ritmo, e della tensione, è abbastanza, curato abbastanza bene, appunto, dicevo, ci sono delle scene, delle scene d'azione abbastanza clamorose, e sono spettacolari, cioè, tutte le scene d'azione sono spettacolari, in ogni punto, da ogni punto di vista, tutte le scene d'azione, in questo film, sono spettacolari, sono coreografate, in una maniera incredibile, e mi chiedo come abbiano fatto, perché sono veramente difficili, tutti gli stunt, sono curati alla perfezione, meravigliosi. Per non parlare, appunto, come dicevo prima, degli effetti speciali, che non sono invasivi, nella pellicola, ma comunque, diciamo, non si notano granché, non ci fai tanto caso, però, si nota un po' di più, quel tocco un po' più di artigianale, misto alla computer grafica, però, non ci fai tanto caso, non è dannoso, non dà fastidio, quindi, gli effetti speciali, sono piuttosto veri, in questo caso, quindi, hanno voluto fare qualcosa di, secondo me, anche innovativo, poiché, ormai, la computer grafica, mi ha preso, ha preso veramente, proprio, piede nel cinema, quindi, la usano per tutto, anche per le scene, dove non serve, quindi, di conseguenza, posso dire, che, qui, è stata usata, in una maniera, azzeccata, ma, al contempo, in maniera giusta, dosata bene, ammetto, che ci sono, delle scene, oltre il limite, del credibile, ma, comunque, non è un film, che va preso sul serio, poiché, è un film, che veramente, la credibilità, qua, non esiste, è, praticamente, un film molto affiatato, molto affiatato, è affiatato, perché, è molto sopra le righe, è affiatato, ed è molto, sopra le righe, poiché, già il primo, era sopra le righe, ma questo, l'è ancora di più, questo, è ancora, il cocco del professore, che fa casino, che deve essere sbattuto fuori, dalla classe, perché fa troppo casino, quindi, ecco, cosa intendo io, per, per esagerato, per fuori dagli schemi, addirittura, quindi, quasi anche, come ho già detto, oltre il limite, del credibile, cioè, ogni cosa in questo film, è oltre il limite, del credibile, è impossibile, che potevano esistere, queste cose, però, ovviamente, come ho già detto, si parla di finzione, quindi, noi spettatori, dobbiamo tenere gioco al film, se no, non ha senso, e non ci divertiamo, perché effettivamente, è un film molto molto divertente, molto molto divertente, perché condensa, sia le scene d'azione, ma comunque, condensa anche un po' di commedia nera, un po' di humor, sempre innegabile, perché è un, lo humor serve comunque, sempre, per smorzare, ed è anche sempre giusto, inserirlo, per smorzare, comunque, le scene troppo serie, troppo seriose, se no, alla fine, proprio, ti tagli le vene, dalla troppa angoscia, e buonanotte. Il reparto musicale, anch'esso, è ben riempito, di musiche abbastanza conosciute, abbastanza belle, come appunto il primo film, perché il primo film aveva anche, un bel mix di canzoni, veramente, canzoni abbastanza dell'epoca, diciamo, l'epoca anni Ottanta, anni Novanta, un po' anche recenti, che comunque erano abbastanza famose, abbastanza belle, poi tra l'altro inserite, in un contesto simile, sembra, ecco, questo, posso dirlo, è tamarro, è un film tamarro, molto più tamarro, del primo, molto, molto di più, ma molto, molto di più. Poi parliamo un po' degli attori, del reparto attoriale di questo film, Taron Egerton, che comunque interpreta questa specie di novello, James Bond, giovanile, se vogliamo, già nel primo film, ha dimostrato una brava, una brava recitazione, una buonissima recitazione, Taron, stessa cosa per Colin Firth, che comunque Colin Firth è un personaggio che comunque, spoiler per chi non ha mai visto il primo, era venuto, diciamo, a mancare, moriva appunto nel primo film, e comunque sono riusciti, in qualche modo, comunque, a giustificare, ecco perché ho detto che è un po' esagerato, a giustificare il fatto che sia tornato in vita, tra virgolette, quindi, è un po', come ho già detto, un po' troppo sopra le righe, quindi, anche la spiegazione che danno per dire come sia tornato in vita, tra virgolette, sempre, è abbastanza sopra le righe, molto esagerato, infatti, e quindi, Colin Firth, qui ci sta comunque a pennello, con questo occhio bendato, praticamente, quindi è proprio perfetto, Mark Strong ha anch'esso una specie di Q, se vogliamo, di James Bond, anche qua, in questo caso, è stato anche lui, bravissimo, stessa cosa per il reparto di attori americani, perché questi qua erano, diciamo, britannici, invece poi stanno quelli americani, abbiamo Jeff Bridge, che comunque, diciamo, non ha bisogno di presentazioni, è stato bravissimo, comunque, Hal Berry, che comunque non la vedevamo dai panni di una Bond girl, nel peggiore film di James Bond, che secondo me è La morte può attendere, con Pierce Brosnan, nei panni di Bond, quindi, qui in questo caso fa una specie di Q americana, quindi è proprio adatta anche a lei a ruolo, se vogliamo, e vabbè, Julianne Moore, nei panni di una, di questa villaino, veramente strepitosa, poi tra l'altro Julianne Moore, potresti farli interpretare qualsiasi ruolo, ma non mi aspettavo mai, facessero interpretare a Julianne Moore, un cattivo, perché veramente lei, è un cattivo veramente, anch'essa sopra le righe, un po' come Samuel E. Jackson, che parlava tutto con questa F mozza, parlava tutta così, no? e anche lei proprio l'hanno caratterizzata piuttosto bene, per non parlare poi dei, di Channing Tatum, che comunque, famoso sex symbol, comunque americano, che compare in parecchi film, è stato comunque molto bravo, nei film di The Eightful Eight, di Tarantino, dove interpretava il fratello di Jennifer Jason Leigh, del personaggio di Jennifer Jason Leigh, apprezzabile, comunque molto delizioso, è stato il cameo di Elton John, veramente, non voglio spoilerare dove compare, poiché diciamo, è uscito adesso, non posso stare a dire, ah sì, è uscito qua, se no, non ha senso scoprirlo. Rispondendo alla domanda di prima, questo sequel era necessario? Certo, sì, per me sì, quindi è un sequel veramente validissimo, che è molto adrenalinico, fuori dagli schemi, molto sopra le righe, esagerato, e ovviamente, oltre il limite del credibile, molto affiatato, molto frenetico, è veramente clamoroso, è un film clamoroso, perché c'è veramente scene clamorose, è spettacolare, che altro posso dirvi? Il voto mi sembra anche più che ovvio, che è un 8 e mezzo barra 9, sono un po' insicuro su questo caso, quindi ragazzi, non so più che altro dirvi, vi ringrazio di tutto, e ci rivediamo in un'altra prossima recensione. Ciao a tutti! Ciao a tutti!